Memoria e appartenenza, arte sacra all'Aquila tra il XV e il XIX secolo. E questo è il titolo della mostra allestita all'auditorium Elio Sericchi di Via Pescara all'Aquila dalla Fondazione Carispa che in collaborazione con la Biperbanca. La mostra, curata dalla giornalista storica dell'arte Angela Ciano, propone 14 opere, 12 dipinti, un disegno ed una scultura che ripercorrono quattro secoli di storia dell'Aquila ed il suo territorio. Tra gli artisti presenti mostra alcuni nomi di primo piano come Saturnino Gatti, Giovanni Dalucoli, Maestro dei politici Crivelleschi, Cola della Matrice, che con le loro opere hanno contribuito alla grande stagione di potere e splendore dell'Aquila. Tutti i nomi di artisti che hanno lavorato all'Aquilani o che sono arrivati all'Aquila hanno lavorato, hanno firmato capolavori nel nostro territorio. L'apertura l'abbiamo dovuta affidare a Teofilo Patini e quindi abbiamo cominciato con l'Ottocento. Con questo bozzetto, che è un olio su tela, fra l'altro, che è l'unica testimonianza che ci resta della grande pala d'altare che si trovava nella cattedrale dell'Aquila, nella chiesa di San Massimo, che rappresenta San Carlo Borromeo che visita gli appestati, è un episodio della peste di Milano della metà del Cinquecento, che purtroppo è l'unica testimonianza che ci resta di quella grande pala d'altare. È stata travolta dai crolli del terremoto del 6 aprile del 2009 e quando siamo andati a recuperarla, la tela ormai era irrecuperabile, ridotta a brandelli piccolissimi. La mostra a memoria e appartenenza è l'evento conclusivo nell'ambito dell'anno giubilare, come sottolineato dal presidente della Fondazione Carispac, Marco Fanfani. Poche opere che rappresentano solo una suggestione, come ha detto Fanfani, dell'immenso patrimonio acquisito dalla Biper Banca da parte della Cassa di Risparmio. La Fondazione e la Biper sono oggi in trattativa per riportare una parte di quel patrimonio alla Fondazione Carispac. Noi abbiamo firmato questo comodato d'uso gratuito, proprio per poter poi successivamente valutare l'opportunità di riappropriarci di questi capolavori, di questi valori d'arte.